L'immigrazione incontrollata, indiscriminata, irregolare purtroppo produce questo dramma. Esistono i negrieri contemporanei che sfruttano queste persone durante il viaggio, altri negrieri autoctoni che sfruttano in questo caso queste donne vittime di violenze. Bisogna però anche raccontare che a questo punto le tante nigeriane, erano soprattutto nigeriane, debbono sapere che è una grande illusione quella di venire in Italia, sbarcare a Lampedusa, finire a Mineo, pensando di trovare la libertà, il benessere e in qualche modo anche la speranza di costruirsi una vita migliore. Io quando raccontate che queste donne devono pagare quelli che le hanno portate qui, ma quindi questi soldi a chi vanno? Si faccia un'indagine, un'inchiesta anche su questo. Devono pagare il viaggio, quindi i soldi che guadagnano frutto della prostituzione a chi vanno? Mineo al centro di tante inchieste, facciamone un'altra e alla fine chiudiamolo che facciamo prima.